Gentili telespettatori, buona giornata. Nel sondaggio Ghisleri-Euromedia Research di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, si vede che la Meloni consolida il suo vantaggio. Questo sondaggio uscito sulla stampa, sondaggio di Alessandra Ghisleri, Fratelli d'Italia continua a rimanere al primo posto, incrementa, si avvicina al 30% e al 28,4%, nello sondaggio di Pagnoncelli era al 29,8%, cioè al 30%. Ma c'è una grande crescita della Lega che adesso è quasi al 10%. Il capitano capocantiere che vuole fare il ponte sullo stretto piace, piace. Mentre E forza Italia scende, per le esternazioni del folcloristico Berlusconi, scende al 6,7%, secondo me è anche fin troppo, il 6,7%. Io credo che di questo passo Forza Italia potrebbe arrivare al 4, come lo era la Lega un bel po' di anni fa. E poi c'è anche un fatto notevole che è quello del sorpasso da parte dei 5 Stelle al Partito Democratico. I 5 Stelle sono al 17,3%, diventano il secondo partito. Il secondo partito sono i 5 Stelle. Si portano dietro l'enorme carrozzone del voto di scambio del reddito di cittadinanza, con quello hanno fatto l'affare della loro vita. In più Conte, con il suo modo di fare piace alla gente, lui ha un certo numero di seguitori che stravedono per lui, per me è inspiegabile, però insomma, ognuno, ognuno ve lo dicevo prima, uno può votare anche una sedia, un albero, quello che volete. Mentre il PD piomba al 17%, uno dei livelli più bassi mai raggiunti. Tendenzialmente questo partito va verso il 15%, è il tendenziale. Mentre il terzo polo, che non è una marca di abbigliamento, oggi vado a comprarmi una camicia a terzo polo, vorrei anche il giubbotto del terzo polo, con qua quelli che giocano a polo, però il terzo polo. Ecco, va bene, non è una marca d'abbigliamento, il terzo polo, ma il terzo polo, che è Calenda, con Renzi, la strana coppia, in cui Renzi sta bello zitto, dice, menumale grazie a Calenda sono entrato di nuovo in Senato, perché se andavo da solo facevo la fine di Gianluigi il paragone. Ecco, quindi l'ultimo colpo di coda, la mossa del cavallo di Renzi, quella è proprio come un cavallo di saltare sopra, come cavolo si chiama, ad azione di Calenda e salvarsi il posto da senatore. Così Renzi è bello tranquillo, ha avuto paura, paura di perdere il posto da senatore. Senatore è il posto fisso, diciamo, di Renzi. Ecco, ha rischiato, come è successo a Di Maio, a tanti altri, di rimanere fuori dal Parlamento, perché non è sicuro, non è che Renzi è stato assunto a vita nel Parlamento. Così è riuscito a... adesso sta bello zitto, dice, mi sono salvato, adesso che faccio? Adesso aspetto che Calenda fa crescere sto partito, in modo che io non sono il fondatore, sono il vice di un terzo polo che è quasi verso il 9%, volevo svuotare il PD, lo sto facendo però con questo terzo polo, con Calenda, vabbè, volevo farlo da solo, lo stiamo facendo in due. E così Renzi è bello tranquillo, fa i suoi giochini sotto bosco, si dice ci sia un accordo con la Meloni per aiutarla nel caso vada sotto in Senato per Forza Italia, eccetera, eccetera. Questo terzo polo che ha definitivamente sorpassato Forza Italia. quindi dopo il PD al 17% c'è il terzo polo con l'8,3%. Sulla crescita di Fratelli d'Italia, la Ghisleri, la maga dei sondaggi, ormai come si dice fatta a fama Eva Curcate, la maga dei sondaggi afferma che il 2,2% guadagnato in meno di un mese da Giorgia Meloni è abbastanza incredibile, ma è troppo presto per parlare di l'una di miele. D'altronde dice l'unico strumento di valutazione in questo momento consiste nel discorso fatto da Meloni alle Camere. La gente le dà credito, c'è il desiderio e l'auspicio soprattutto tra chi ha votato la coalizione di centrodestra di vedere esaudite le promesse elettorali. Momento, momento, fermiamoci un attimo. Nel programma di centrodestra in realtà non è che ci siano promesse elettorali. Nel programma della Lega decine di miliardi di promesse elettorali a vanvera. Nel programma di Berlusconi c'erano anche le dentiere. È un milione di alberi quando nel PNRR ce ne sono quattro. Quindi aveva messo meno alberi di quelli che... questo per farvi capire a che livello siamo. Nei programmi dei due che stanno nel centrodestra c'erano decine di miliardi di promesse elettorali a vanvera. Nel programma della Meloni e poi nel programma del centrodestra non ci sono promesse. Io ti prometto che... no. Spenderemo... no. C'è scritto punto uno, punto due. Vogliamo fare questo ma nessun numero, nessuna data. Se avremo i soldi lo faremo. Vogliamo fare questo ma senza numeri, senza date e speriamo che ci siano i soldi, che ci saranno i soldi. Ecco, queste sono delle promesse fatte molto vagamente, come dire... ah, quest'estate vorrei andare lì in vacanza, però non so se mi danno le ferie, non so se ho i soldi e se ce li ho magari ho altre priorità, vediamo. Ecco. Quindi non è che siano proprio delle promesse, sono delle delle prospettive, mi piacerebbe fare. Ecco. Poi analizza la situazione all'interno del centrodestra e dice a destra Fratelli d'Italia e Lega crescono a discapito di Forza Italia, che paga il prezzo delle divisioni, delle lite e degli audio rubati, no? Da ridere, no? In cui Berlusconi parla di crisi internazionale a cui gli italiani sono rimasti esterefatti, no? Dal votare Calenda, Lameloni, eccetera, eccetera. Grazie a tutti e arrivederci.